E' vero che c'è da te? Ti ti invitò? Ti ti invitò? I cittadini di Piossasco sono tutti invitati a casa di Giorgio! Tutti da me! Sì, come parla in italiano! Mi hai detto di parlare in italiano! Federico! Federico, c'è il nostro motor! Federico, c'è il nostro motor! Qual è il telefono che è il cantore? Venite, venite sul carro! Il cambio di questo festivo organizzato! Chiediamo solo di prendere la residenza, Paolo! Come nasce, guarda dove va! Meglio l'emozione, non mandarla via! Se ci vuoi giocare, per cambio con la mia! Puoi si è balla, non la sai! E ti tra la sua vita che fai! Un'emozione sarà! Gli emozioni sono un arcobaleno, che colora il cielo dentro di noi! Sono nuvole, suono il sereno, suono il sale, il pepe, il ciò che fai! C'è una ragazza che non riesce a capire, che non sai se poi ti passerà! Ma davvero basta solo parlare! E la soluzione si troverà! E le cose nuove, quando fa un pallone, non tira fuori la possibilità! Ogni giorno è davvero un'avventura, domani ti sorprenderà! Vieni, uccosizione, chiama, fermare, ma trover, suonare, che è il suo nonno! Spendilo a mia mano, seguito a mio piano! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti